Oggi vi raccontiamo come trascorrere un weekend invernale a Rivi Sondoli e dintorni. Si parte con una classica ciaspolata guidata che ci porterà nel messoso bosco innevato di Sant'Antonio. Paesaggi fiabeschi, tante curiosità e una vista spettacolare sui monti. Nel Parco Nazionale della Maiella ti conquisteranno subito Pesco Costanzo con il suo antico centro storico e Rivi Sondoli. In più troverete una vasta scelta tra baite e locali dove poter gustare specialità tipiche. E se siete di quelli che sognano la neve per il piacere di rifugiarsi spa, seguite il nostro suggerimento. E poi ovviamente tutti sulle piste da sci. È in arrivo il video completo, iscrivetevi al canale per non perderlo.